Caltanissetta C'era anche il portafogli dell'uovo Bentrovati Caltanissetta in fiamme Un'abitazione a Santa Flavia Arrestato un cinquantenne In fiamme un'abitazione Di via Cardinale Dusmet Nel popoloso quartiere Santa Flavia Caltanissetta nella tarda serata di ieri Immediato e provvidenziale L'intervento dei vigili del fuoco Con un'autoscala e diverse squadre Che si sono prodigati immediatamente Nell'opera di spegnimento dell'incendio Rimuovendo anche una bombola di gas Dalla cucina all'ultimo piano Dell'edificio Messo in sicurezza lo stabile Dopo la temporanea evacuazione Per le famiglie degli altri piani È stato possibile tornare a casa Non è stato così per un cinquantenne L'unico abitante dell'appartamento Che ha riportato notevoli danni Rintracciato poco dopo dalla polizia All'esterno del palazzo È stato arrestato perché sarebbe stato lui A causare l'incendio Dopo una perquisizione è stato sequestrato un accendino All'interno dello stesso appartamento Sono stati trovati dei materassi Disposti a piramide A quanto pare per alimentare le fiamme Ora l'uomo si trova al carcere Malaspina A disposizione dell'autorità giudiziaria Droga ha chiesto un rinvio a giudizio Per l'accusa di spaccio La procura di Agrigento Ha chiesto il rinvio a giudizio Della canicattinese Giuseppina Amato 37 anni Per l'accusa di spaccio I fatti risalgono al 10 febbraio scorso Quando l'imputata Nel corso di un controllo antidroga Eseguito da polizia e guardia di finanza Era stata sorpresa Con 30 involucri di crack Per una quantità totale di stupefacente Di 4,8 grammi Oltre a esso furono trovati anche 17 grammi di eroina La droga era nascosta all'interno di un fustino Nella cucina della sua abitazione Dove era custodito anche tutto l'occorrente Per preparare le dosi Che secondo l'accusa La donna smerciava in paese Nel corso dell'interrogatorio A cui si era sottoposta La donna aveva negato di esercitare attività di spaccio E aveva anche indicato come responsabili Altre due donne Presentate come le sue collaboratrici domestiche Versione che non è stata creduta dagli inquirenti Addirittura una delle due donne Era stata sorpresa in casa della stessa Amato Sebbene fosse ai domiciliari Si è spento all'età di 55 anni Michele Santoro Conosciuto e apprezzato in città Per le sue doti umane e professionali Si è spento Michele Santoro Noto in città in diversi ambiti Dallo sport al mondo della fotografia E non solo Michele Santoro era un cameraman di lungo corso Aveva cominciato a videotrinacria negli anni Ottanta Nella stessa tv diretta dalla sorella Rossana Storica speaker del telegiornale E del cognato Osvaldo Lograsso Che lo vollero tra i collaboratori più fidati di quell'emittente Michele Santoro era una persona solare Straordinariamente semplice Era amico di tutti E non è una frase fatta Su Facebook sono centinaia i commenti degli amici di Michele E non solo Di quanti hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerlo Perché Michele era una persona speciale Era soprattutto un padre e un marito esemplare Per Simona Conosciuta giovanissima E con la quale aveva creato una splendida famiglia Con quattro figlie Il suo sorriso era contagioso La battuta sempre pronta E la grinta dell'eterno ragazzo Aveva superato da qualche anno la soglia dei 50 anni Non aveva mai perso lo slancio E l'entusiasmo del combattente verace Anche dinanzi a un male Che da qualche tempo lo aveva colpito Segnandolo giorno dopo giorno Michele Santoro Fino alla fine ha giocato la sua partita Con la tempra del campione Sì perché Michele Santoro Era anche campione d'Italia Titolo conquistato con gli allievi Della PGS Don Bosco Calcio Nel 1983 In quella squadra Allenata da Antonio Lupo Anche Davide La Paglia Valentino e Fabrizio Fama Ignazio e Giuseppe Riggi Gabriele Falsone Sergio Verdone Michele Di Filippo Andrea Maira Liborio Passaro Massimo Chiarello E altri ragazzi Dall'oratorio salesiano Sacro Cuore Dove Michele era di casa I funerali venerdì Alle ore 16 In cattedrale Dall'annuncio su internet Alla truffa La delusione di una trentenne Che desiderava avere un cucciolo Di razza maltese Il sogno di poter avere un cucciolo Di razza maltese Si è trasformato in una vera e propria truffa Per una giovane donna grigentina Di 32 anni Che ci ha rimesso 100 euro La vittima della truffa Era stata allettata Da un annuncio su Facebook In cui una persona Presentatasi come una donna di Milano Sosteneva di voler regalare Un cane maltese A chi fosse interessato Una volta avviati i contatti La grigentina Si è sentita chiedere 100 euro Somma considerata necessaria Per le spese di spedizione Da colei che diceva Di volere regalare l'animale Richiesta a cui La 32enne agrigentina Ha detto di sì Provvedendo ad effettuare Un bonifico In modo da vedersi arrivare A casa quanto prima Il cucciolo Solo che alla prima Richiesta di denaro Ne è eseguita una seconda Stavolta da 350 euro L'interlocutrice aveva spiegato Che servivano Per fare viaggiare Il cagnolino In una gabbietta Con aria condizionata E con tutte le comodità Del caso A quel punto La grigentina Che non ha effettuato Il secondo bonifico Da 350 euro Ha cercato di mediare Cercando soluzioni alternative Visto che la cifra Iniziava a lievitare Un po' troppo E poi all'improvviso La donna milanese È praticamente sparita Alla persona offesa A quel punto Non è rimasto altro Che denunciare L'accaduto alla polizia Insulta i poliziotti Una donna Finisce nei guai A San Leone Nell'agrigentino Disposto L'obbligo di presentazione In questura Per la firma Nei confronti Di una 47enne Agrigentina Finita nei guai Per resistenza Oltraggio a pubblico Ufficiale E per essersi Rifiutata Di fornire Le proprie generalità Ai poliziotti La donna Che vive a San Leone Andava in giro Visibilmente ubriaca Che ha cominciato A importunare Diversi passanti Della zona I quali hanno Immediatamente Chiamato le forze Dell'ordine E sul posto Era arrivata rapidamente Una volante Della questura Agrigentina All'arrivo dei poliziotti La donna Invece di calmarsi Ha iniziato a inveire Contro gli agenti Insultandoli Tentando di aggredirli Con calce e pugni E addirittura Sputando loro Addosso Inevitabile A quel punto L'arresto E inizialmente Il pubblico ministero Di turno Aveva disposto I domiciliari Dopo la convalida Il giudice Ha invece affievolito La misura iniziale Un sessantenne Di canicazzi Lascia lo zaino Sotto l'ombrellone E i ladri Glielo portano via All'interno C'era il portafogli Dell'uomo Derubato di denaro E altri oggetti Di valore Nei pochi istanti In cui aveva lasciato Il suo posto in spiaggia Per recarsi al bar Giornata al mare Non certo piacevole Quella trascorsa da un uomo Di 65 anni Di canicatti Al quale sono stati rubati Il portafoglio Con i 200 euro Custoditi all'interno I documenti E la carta del bancomat L'uomo aveva deciso Di trascorrere Una giornata al mare All'idopoliscia Di Licata A un certo punto Aveva fatto una pausa E si era recato al bar Lasciando lo zainetto Incustodito Nel luogo Dove si era fermato Al suo ritorno Ecco l'amara sorpresa E a quel punto Non ha potuto fare altro Che recarsi Al commissariato Di canicatti Per denunciare L'accaduto Quest'ultimo caso Di furto Non è stato certo Il primo Nella recente estate Sia nella stessa Licata Che in altre zone Balneari Dell'Agrigentino Quali San Leone Real Monte Siculiana Dove sono stati Presi di mira Sia gli averi Che di solito I bagnanti Lasciano in borse Zaini Mentre sono in acqua E anche le auto Di alcuni malcapitati Recupero e riabilitazione Funzionale All'interno del presidio Ospedaliero Sor Cecilia Besarocco Di Niscemi Afferente all'ASPE Di Caltanissetta Le novità Riguardano anche Il personale Con nuovi reclutamenti Assunti Infatti Fisiatri E fisioterapisti Una realtà Quella creata Al Sor Cecilia Besarocco Di Niscemi Sottolinea Il direttore generale Dell'ASPE Di Caltanissetta Alessandro Caltagirone Che completa Con un altro tassello Fondamentale L'allestimento Del presidio ospedaliero È l'esempio Di una struttura In grado di assicurare Quella medicina Di continuità Che trova spazio Su aree più delocalizzate Ma che fa la differenza Nel trattamento Di patologie croniche Da gestire E monitorare Nel tempo Una buona notizia Per l'intera cittadinanza Un traguardo raggiunto Grazie anche ad un lavoro Sinergico Tra comune E aziende sanitarie Provinciale Così come viene Sottolineato Anche dall'amministrazione Comunale di Niscemi Telefonate intimidatorie A due sorelle Di Canicattì Sul caso Indaga la polizia È un vero e proprio mistero Quello legato Alle telefonate anonime Dal contenuto intimidatorio Di cui sono state Destinatarie Due sorelle di Canicattì Nel giro di poche ore La prima a ricevere Le minacce È stata una giovane donna Di 28 anni Quando a risposto Alla chiamata Arrivata senza che fosse Apparso il numero Dell'apparecchio chiamante Visto che è stata usata La funzione di chiamata Anonima Ha sentito All'altro capo del filo Una voce maschile Che le ha rivolto Parole inequivocabili Contenenti minacce Di morte per lei Il marito E i figli Esperienza Non certo invidiabile Che quasi negli stessi istanti Ha vissuto anche la sorella La quale si è sentita Rivolgere una serie Di minacce Sulla stessa falsariga Subito Sono stati allertati I poliziotti Del commissariato Di Canicattì I quali sono anche Riusciti ad ascoltare Il contenuto Di una delle telefonate Mentre era in corso Ascoltando così La voce dell'uomo L'autore delle telefonate Stando a quanto ricostruito Finora Aveva anche dimostrato Di conoscere le famiglie Fornendo nomi E particolari Riguardanti la vita Delle persone offese Adesso saranno Le indagini A chiarire i contorni Della vicenda Da parte loro Le due donne Hanno affermato Di non aver avuto Contrasti O altre questioni Con nessuno La polizia Ha consigliato A entrambe Di rivolgersi Al servizio Antiviolenza Telefono Amico Contributo A fondo perduto Per la rimozione Dell'amianto Per gli interventi Nei condomini L'importo massimo È di 2500 euro Per abitazione E' stato pubblicato Sul sito Della regione siciliana Il bando Per la concessione Di un contributo Per la rimozione Di manufatti Contenenti amianto Il fine è quello Di incentivare Si legge Nell'avviso pubblico Dell'assessorato Delle energie E dei servizi Di pubblica utilità Dipartimento Dell'acqua E dei rifiuti I privati cittadini Alla rimozione Successivo smaltimento Di manufatti O materiali Contenenti amianto Presenti In unità immobiliari Destinate a civile abitazione E relative pertinenze Situate nel territorio Della regione siciliana Per la misura Vengono messi a disposizione Ben 10 milioni di euro A valere sulle risorse Finanziarie Afferenti al programma Di azione e coesione Programmo operativo Complementare 2014-2020 Della regione siciliana Le eventuali economie Si precisa ancora Saranno utilizzate Per lo scorrimento Della graduatoria Delle stanze ammissibili Altresì Si potrà procedere Ad eventuale scorrimento Di graduatoria In caso di integrazione Della dotazione Finanziare iniziale Con apposito Provvedimento Dell'amministrazione regionale Quest'ultima Inoltre Si riserva La facoltà Di aprire Ulteriori finestre Temporali Rispetto ai termini Indicati Per permettere L'invio Di nuove domande Come nel caso in cui Quelle ammesse il contributo Non esauriscano La dotazione finanziaria Disponibile Le domande potranno essere presentate Esclusivamente online Attraverso apposita piattaforma Dalle ore 12 Del 19 settembre 2022 Alle ore 18 Del 2 dicembre 2022 Si tratta di un contributo A fondo perduto Che potrà coprire Fino all'80% Dei costi sostenuti All'interno Degli interventi ammissibili Che vengono specificati Nel bando In ogni caso L'importo del contributo Non potrà superare 5.000 euro Per ciascuna unità immobiliare E relative pertinenze Nel caso dei condomini Il contributo massimo Erogabile A ciascun condominio Non può superare L'importo di 2.500 euro Per unità immobiliare Si precisa ancora Nel documento Comprensiva Di eventuale Relativa pertinenza Nel limite massimo Complessivo Di 30.000 euro Per condominio Covid 52 positivi Nel Nisseno 14 a Caltanissetta 11 a Gela E 5 a San Cataldo 17.550 Questo è il numero Dei nuovi casi In tutta Italia E di questi in Sicilia 926 Questi dati Dell'incremento Dei casi totali Rispetto al giorno precedente Secondo il bollettino Dell'8 settembre Sui casi Covid-19 Scaricabile dal sito Tematico dedicato Del Ministero della Salute In provincia In provincia invece Si registrano 52 nuovi casi 3 pazienti di messi Di messi della degenza Ordinaria 2 di Gela E 1 di Niscemi 221 guariti da Covid-19 9 così suddivisi 79 pazienti di Gela 31 di Caltanissetta 25 di Niscemi 16 di San Cataldo 14 di Delia 10 di Mussomeli 9 di Butera 7 di Sommatino 5 di Vallelunga Pratameno 4 di Riesi 4 di Campofranco 4 di Sutera 3 di Milena 3 di Serra di Falco 2 di Santa Caterina Villa Armosa 2 di Villalba 1 di Buonpensiere 1 di Marianopoli E 1 di Mazzarino Croce Rossa Italiana È stato nominato Il delegato Delle Operazioni Emergenza E Soccorsi Andrea Miciche Scattano le nuove nomine all'interno di alcune sezioni della Croce Rossa di Caltanissetta Il Consiglio Direttivo ha infatti conferito il ruolo di delegato dell'area Operazioni Emergenza E Soccorsi ad Andrea Miciche volontario della Croce Rossa da oltre 20 anni formatore nazionale dell'area sociale istruttore e redattore dei piani di protezione civile e di emergenza dell'Associazione Luigi Domenico Walter Savarino sarà invece il nuovo referente per i soccorsi con mezzi e tecniche speciali che vanta una grande esperienza nel soccorso e nelle attività di recupero in zone impervie Andrea Leone sarà il nuovo referente per le telecomunicazioni mentre il referente per le attività chimiche, biologiche e radiologiche e nucleari sarà Antonio Giuseppe Loria Valentina Mistrette è stata invece nominata nuova referente dell'unità di strada per potenziare il servizio in modo da renderlo migliore in base alle nuove necessità delle persone vulnerabili soddisfazione da parte del presidente del direttivo della Croce Rossa di Caltanissetta Nicolo Piave e dei componenti Laura Russo Antonio Gumina Alessandra Romano e Marco Lacagnina i quali hanno sottolineato la grande professionalità dei volontari scelti per gli importanti e complessi incarichi il direttivo si è detto certo del grande supporto che verrà dato alle istituzioni locali e provinciali in caso di intervento per noi ha aggiunto il presidente Nicolo Piave la formazione è fondamentale in assenza di quella non possiamo garantire gli standard qualitativi che il cittadino giustamente si aspetta da una gloriosa istituzione quale è la Croce Rossa italiana che mi onoro di rappresentare nel territorio nisseno domani venerdì alle ore 21 al parco archeologico Palmintelli di Caltanissetta nell'ambito del premio teatrale popolare Michele Abbate lo stabile nisseno proporrà la farsa in due tempi ora però muori amore mio già portata in tournée dagli attori nisseni in quasi tutta la Sicilia protagonisti Ilaria Giammusso Giuseppe Speciale e Giovanni Speciale regia di Antonello Capodici lavori in dirittura d'arrivo allo stadio Tomaselli di Caltanissetta per la collocazione del manto erboso sintetico la federazione italiana rugby e la nissa rugby esprimono soddisfazione per il progetto avviato nel 2017 sono prossimi alla fine i lavori della posa del nuovo manto in erba sintetica allo stadio Marco Tomaselli di Pian del Lago una novità che riguarda anche il rugby oltre al calcio tanto che la stessa nissa rugby ha espresso soddisfazione per l'ormai prossima conclusione dei lavori e sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso anche il presidente della federazione rugby Sicilia Gianni Sarageno il quale ha affermato dopo un'attesa che in certi momenti è sembrata insostenibile finalmente lo stadio Tomaselli si appresta a essere restituito alle società nissene un campo moderno accogliente e polivalente che tornerà a essere un punto di riferimento per il rugby e il calcio siciliano nazionale e internazionale e soprattutto un impianto a disposizione della città per tutte le attività che contraddistinguono la nissa rugby il progetto aveva preso il via già nel 2017 aveva visto anche l'interessamento della stessa federazione rugby e della società della palla ovale nissena ora si attende che il manto venga completato e poi gli appassionati potranno finalmente assistere alle prime gare dei vari campionati la stessa nissa calcio a causa dei lavori attualmente sta disputando le gare d'inizio stagione del campionato di eccellenza a Riesi Calcio Serie D è arrivata la decisione del Tar Lazio sul caso Giarre ricorso respinto il club gerrese non farà parte del Girone I non si esclude un ulteriore ricorso della società catanese al Consiglio di Stato nei prossimi giorni intanto sarà diramato il calendario relativo a 18 squadre a breve dunque la San Cataldese potrà conoscere l'avversario della prima giornata prevista domenica 18 è tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì la circolazione depressionaria che insiste sull'Europa centrale coinvolge in parte anche l'Italia continuando a provocare molta nuvolosità in transito al nord ma in parte anche al centro e nuovi piovasti vediamo infatti nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra come gli addensamenti interessano soprattutto il centro nord Italia associati anche a precipitazioni a carattere sparso spesso a sfondo temporalesco vediamo quindi il tempo che ci aspetta sull'Italia avremo una giornata che resta stabile ampiamente solleggiata all'estremo sud e sulle isole maggiori con clima anche particolarmente caldo e valori spesso al di sopra delle medie del periodo maggiore variabilità invece al centro nord e con tempo a tratti instabile sulle regioni settentrionali con occasione frequente per piogge temporali specie sui settori montuosi ma a tratti anche sulle pianure e sulle aree interne del centro qui il clima resta un po' più gradevole e valori sono contenuti per tutti i dettagli e consultate l'app di Tribi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Pantano Via Don Minzoni Servizio notturno Romano Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele